La struttura commissariale farà il suo decreto nel giro di pochissimi giorni, dopodiché andrà con una nota da parte del dirigente del Dipartimento Fatarella al Consiglio regionale perché il Consiglio regionale lo recepisca e lo faccia diventare legge. Una volta fatto questo noi autorizzeremo Marrelli e tutti gli altri che sono nella situazione di Marrelli. Non ci sono lobby, non ci sono gombini, ci sono state grandi difficoltà nelle precedenti strutture commissariali perché come dice la nuova legge il controllore non può anche essere controllato. Adesso con il nuovo sistema il controllore è diverso dal controllato. Noi abbiamo seguito un iter che è incominciato due anni fa dove abbiamo risposto a tutte le richieste. A fronte di questo iter dopo 20 mesi non è concepibile che noi dobbiamo ritornare indietro perché l'ha deciso il signor Urbani. Non è possibile. Io ricordo che sei mesi fa quando c'era il generale Pez aveva sostenuto pubblicamente che le autorizzazioni dovevano essere rilasciate. Io non capisco perché oggi noi dobbiamo ricominciare da capo. Per quale motivo? Per volere di chi? Per volontà di chi? Questo noi non l'accettiamo. Io per primo non l'accetto.